Al teatro Gobetti va in scena lo spettacolo Ghiaccio di Bryony Leivry, con regia di Filippo Dini. Le repliche dal 5 al 10 aprile saranno accessibili tramite sopra titolazione in italiano e in italiano semplificato, con smart glasses e smartphone forniti dal Teatro Stabile di Torino e audio introduzione. Lo spettacolo è in programma da martedì a domenica con i seguenti orari. Martedì, giovedì e sabato ore 19.30, mercoledì e venerdì ore 20.45, domenica ore 15.30. La durata dello spettacolo è di circa 1 ora e 45 minuti, senza intervallo. Ghiaccio è un thriller psicologico scritto dalla drammaturga inglese contemporanea Bryony Leivry. È stato prodotto per la prima volta in Inghilterra nel 1998 e ha ricevuto numerosi premi grazie ai temi affrontati, che aiutano a interrogarci sulla nostra società, la violenza, il perdono, il desiderio di vendetta e il ruolo del carcere. La storia si svolge all'interno di tre stanze geometriche, una dentro l'altra, rivestite di cellofan e plastica trasparente, con segni di impurità e pioggia. In scena ci sono Filippo Dini, anche regista dello spettacolo, che interpreta il criminale Ralf. Mariangela Granelli, che interpreta Nancy, mamma della piccola Rona. E Lucia Mascino, nel ruolo di Agneta, la psichiatra. La vicenda attraversa vent'anni di narrazione. La bambina, Rona, sparisce dopo aver portato un paio di cesoie alla nonna. I giorni, i mesi, gli anni si susseguono come congelati, nella speranza della madre Nancy di rivederla. Il corpo senza vita di Rona viene ritrovato a vent'anni dalla sua scomparsa e Ralf viene arrestato come serial killer e rinchiuso in carcere. Lì incontra Agneta, una psichiatra che studia il funzionamento del cervello e sta mettendo a punto una teoria sugli assassini seriali. Il perdono di Nancy, decisa a uscire da tutto quel dolore e dal desiderio di vendetta che si porta dietro da anni nei confronti di Ralf, l'assassino di sua figlia, contribuisce a disgelare l'animo del criminale e restituisce agli spettatori un finale inaspettato. L'ambientazione non è realistica, ma è quella di un sogno. La scenografia è composta da tre ambienti, rivestiti da cellofan e plastica, dalla forma geometrica. Dal più grande al più piccolo sono contenuti uno dentro l'altro. La stanza più grande è larga sette metri, mentre altezza e profondità superano i cinque metri. Il nucleo, costituito dall'ambiente più piccolo, è largo e alto tre metri e ha una profondità di due metri e mezzo circa. La scena rappresenta lo spazio metaforico della mente ghiacciata di un criminale. Le pareti di plastica trasparente presentano squarci che consentono il passaggio degli attori fra una stanza e l'altra. Il pavimento è completamente ricoperto di terra. Sulla sinistra della scena c'è un albero autunnale dai rami secchi che attraversa i tre ambienti e rappresenta il percorso emotivo di Nancy, la sua liberazione dopo il lutto. Un'asta con un microfono e un tavolino con due sedie sono al centro del palcoscenico. Tre sono gli oggetti in scena che appartengono alla bimba scomparsa. Un peluche, un ramo di ginestra e una pietra magica. La piccola rona viene rappresentata da un impermeabile rosso con un cappuccio. I personaggi indossano abiti contemporanei. Ralph è caratterizzato dal colore grigio e dallo stile semplice e dignitoso. Quando verrà arrestato porterà delle catene intorno alla vita che bloccano polsi e caviglie. I cambi di abito di Nancy sono sobri e caratterizzati dalle tonalità del marrone e del beige. Agneta si muove sulla scena con un completo verde e un cappotto bianco raffinati ed eleganti. Briony Lavery è una drammaturga inglese di grande successo. Ha scritto oltre 50 opere teatrali e libri tra cui sceneggiature originali P.S. per ragazzi radiodrammi e adattamenti teatrali. Filippo Dini è attore e regista teatrale. Si forma alla Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. fonda la sua prima compagnia nel 1998 e nel corso della sua carriera riceve numerosi e prestigiosi riconoscimenti. Dal 2021 al 2024 è regista residente del Teatro Stabile di Torino. Per ricevere maggiori informazioni su orari prezzi e modalità di accesso contattaci accessibilità chiocciola teatrostabile torino punto it 011 5169 460 Per organizzare al meglio la tua accoglienza ti chiediamo di prenotare in anticipo i biglietti contattandoci e specificando eventuali necessità biglietteria chiocciola teatrostabile torino punto it 011 5169 555 Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e in caso di necessità l'eventuale accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio.